Innanzitutto ho le mie tazze preriscaldate sullo scaldatazze della macchina. Per andarlo a preparare ho la mia miscela pronta, stacco il braccetto e uso il dosino. Se volete essere precisi potete usare un bilancino così siete sicuri della grammatura. In questo caso, ricordiamoci siamo in ambiente casalingo, la macchina arriva con un dosino. Io vado a utilizzare una dose e mezza. Una e mezza. Lo andiamo a livellare con i colpetti e andiamo a completare facendo la nostra pressatura. Abbiamo il nostro caffè pressato. Prima di andarlo ad agganciare alla macchina facciamo quello che abbiamo chiamato il flushing o lo spurgo. Togliamo un pochettino di acqua per rimuovere l'estrazione precedente, se ne avete fatte. Agganciamo, mettiamo la nostra tazzina e avviamo l'erogazione. Grazie. Grazie.